musica eccoci di nuovo su una nuova puntata di resident evil 6 da pepdgame94 siamo ritornati ragazzi siamo ritornati sto continuando a registrare dalla puntata scorsa andiamo a massacrare questi cazzo di zombie questo vuole far battire la macchina ma non ce la fa gli do una mano io questo ci prova anche ma non ce la fa vieni vieni gli do una mano ecco così si apre la portiera di cattiveria proprio direi che ah qua vabbè stanno stanno facendo pranzo loro scusate se vi disturbo scusate ma per la cattedrale da questa parte si ecco ti ti ho detto di pigliare un cazzo di tom tom porca pittana tecnicamente tom tom ce l'abbiamo è vero è vero è vero c'è un gps siamo avanti noi cazzo ok sta bussando violentemente secondo me non li apre nessuno aspetta aspetta provo io vediamo aspetta no ma niente niente non c'è nessuno in casa mi dispiace ora ti tiro fuori ti tiro fuori volevo uccidere no no intanto diventerò uno zombie in più eh si ma qualcos'altro ragazzi non ci dite ma altro che inferno porca pittana una bolgia che inferno vaffanculo non riesci manco a tirare due calci di merda vai accalci nel culo combo esagerato si delle belle questi mi hanno rotto il cazzo ah io ho pure poca vita porca pittana non è un corto eh non mi hai rotto il cazzo dove sei ok ma non mi danno un cazzo non va bene porca pittana che due coglioni non abbiamo tempo di affrontarli dritti dritti a nonnare prendiamo come pazzi va bene io posso di qua porca troi no chi è ah sei te ma come cazzo ma porca troi vai 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 io salvo scappo via oh mio dio quanti sono ecco qua l'angrante incendiare però ci starebbe tantissimo ragazzi sai quante ne faccio qua sapete che figa io scusate ma io lo faccio soddisfazio lo so che no però me la spreco no vabbè no 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 però sarebbe stata una cosa epica ecco mi pareva ok va bene possiamo andare avanti ah che figa di merda ok passiamo giù un'altra cosa no mi sa che erano scatole salta questo stai qua ok vieni roger home che bello ma come un brutto deja vu come un brutto deja vu no quello è il mitra oh quello è il mitra porca puttana quello è il mitra non sapevo che fa più figo fa più figo sì però vaffanculo vienimi a salvare l'erbetta mi ha lasciato l'erbetta vieni l'unica troia vieni che ha lasciato l'erbetta almeno me ne piglio uno di pastiglia porca troia dov'è ah no le posso fare combinare combinare bella 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 via tu due vai adesso sapete cosa faccio meno male che non ho usato l'organizzazione di aria brucia non è possibile io non ci credo oh che cazzo ci volevo vedere ok sapete che cazzo avete rotto i coglioni zoni di merda oh piantina 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 che cazzo ah è un altro corazzato no non era no si è corazzato vai a calci a calci a calci ma lamenta a calci vai si violenza vai ok fuori dalle palle vai 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 scappiamo 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 eh scusate se vi interrompo ragazzi vi dispiace figlio di puttana perché non li posso tirare i calci ah ho finito la stamina porca però io devo se la porto oh piantina piantina con quella rossa bella ce ne facciamo sei e ce ne andiamo adesso recuperiamo tutta la vita vai ce ne rimane una va bene va bene meno male c'è andata bene dove cazzo ha questo c'è la torcia lo prendo io molto male qualcosa mi dice che devo andare sulla scala però qua ci sono delle casse allora chiariamo su sta cazzo di scala boom noi facciamo settare la testa così vieni bagascia ah ma lasciate il coso però basta non si riascoltere dopo eh scatta più sì vai vai scendi oh ah no di qua devi andare ma vaffanculo vai vai scappa mi foto un cazzo la lasci di me morire che cazzo ancora ma avete rotto i coglioni con ste macchine zombie express zombie alla guida oh ma chi cazzo gli ha dato la patita sti cazzo i zombie stavo scherzando mi è andata bene mi è andata benissimo mi sta per investire mettiamo qua dentro vai dai 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 vai vai come cazzo fa sapere che siamo entrati sono solo lei non ti ho detto che abbiamo fretta hai detto il cazzo ho fatto fornata di zombie rompere i coglioni adesso mi faccio una partitina bigliardo e non devi scassare le palle ok che cazzo minchia eh c'ha fretta questo lasciamo lì a ferire perfetto ma munizioni qualcosa no eh troppo bello per essere vero bene io allora abbiamo fatto quella stappare guarda vediamo un attimo vediamo un po' se riusciamo a continuare ancora questo pezzo credo che abbiamo ancora un po' di tempo uh c'è un'arma c'è un'arma dai facciamo ancora allora questo pezzettino visto raccogliamo l'arma di là ok ok apriamo sta cazzo di porta allora posto ok non vi muovete di lì guardate la tv e non rompete il cazzo va bene allora noi andiamo avanti non li rompiamo da minchia facciamo più quel cazzo vogliamo anche te resta lì per favore no è chiusa eh che palle tutte chiuse queste cazzo di porte trova la chiave la chiave di là eh te pareva lo so di genere adesso lo so eccolo vediamo sta cazzo di chiave ecco c'è pure il video qua mi salta addosso sta qua no ci pensa il marito se non volevo non volevo non volevo importunarla ho solo preso la chiave non mi rompere i coglioni pure te ok posso rompere la televisione indistruttibile mamma mia ok pure te hai rotto il cazzo hai rotto veramente la minchia oh apriamo sta cazzo di porta ah aspetta aspetta munition 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 bella e prendiamoci una arma oh fucile a pompa ragazzi abbiamo sto cazzo di fucile a pompa e adesso gli apriamo un buccio di culo tanto perfetto ragazzi io direi che l'appuntamento di oggi può finire qua come sempre mettete iscrivetevi mettete mi piace al video e ci vediamo alla prossima puntata di Resident Evil 6 bella ragazzi grazie grazie